Mercoledì 28 aprile si terrà nei locali del liceo musicale Alfonso Gatto di Agropoli un piccolo concerto in diretta streaming. I protagonisti dell'evento saranno i pianisti e i chitarristi del liceo musicale che suoneranno esclusivamente in veste di solisti. La diretta verrà trasmessa a partire dalle ore 18 sulla pagina Facebook del liceo Gatto. I giovani musicisti suoneranno ancora una volta senza il tributo di un applauso, ma con l'intensità e la che hanno dentro e che di certo sapranno comunicare a coloro che li ascolteranno e sentiranno sicuramente il calore e la vicinanza di chiunque vorrà collegarsi per condividere con loro un'emozione in musica e un momento di spensieratezza culturale sulle note dei più grandi artisti della storia della musica.